Oltre 15 milioni di investimento, di cui 7 donati da lavoratori di tutta Italia e relative imprese di appartenenza, e quasi 8 cofinanziati dagli 8 soggetti beneficiari. Il Comitato Abruzzo, costituito da Confindustria, CGL e Cisleuil, ha chiuso oggi, con un convegno all'auditorium del Parco dell'Aquila, il bilancio dell'utilizzo del fondo raccolto per aiutare concretamente le popolazioni colpite dal sisma del 2009. All'evento doveva essere presente anche il segretario generale della CGL Susanna Camusso, trattenuta però a Roma all'ultimo momento. Il fondo ha cofinanziato 8 progetti innovativi, che hanno coinvolto 135 società, poli e reti d'impresa, 300 lavoratori per progetti che spaziano dai laboratori sperimentali per il restauro delle ceramiche artistiche, ai corsi di formazione per la valutazione dell'efficienza energetica degli edifici, alle nuove tecnologie per il controllo del traffico aereo, i sistemi di telecomunicazione a banda larga. E non solo, intorno a questi progetti sono stati attivati 25 master di specializzazione post-universitaria e 20 dottorati di ricerca. Si è finanziato una serie di progetti, di attività, che hanno cercato di fare qualità industriale, progetti innovativi, nuove imprese, rapporti università-ricerca, dotazione delle scuole superiori tecniche. Quindi una serie di progetti sul territorio e una visione di utilizzare questi fondi, diciamo, per qualificare gli elementi di sviluppo del territorio. Investire sull'innovazione è la via maestra, dunque chiose il segretario provinciale Cigiele Umberto Trasatti, ma non bisogna dimenticare che la situazione occupazionale nell'Abruzzo interno resta drammatica e l'economia della ricostruzione non basta. Noi siamo un territorio che in due anni, il 2012 e il 2014, ha perso ben 17.000 posti di lavoro, oltre il 15% della forza lavoro complessiva. E quindi la sfida per questo territorio non si vince solo attraverso la ricostruzione, ma insieme alla ricostruzione bisogna puntare degli interventi e investimenti pubblici sulle attività economiche. Grazie.